Ciao belli, bentornati sul punto di giro, sono il vostro G e oggi facciamo un video aggiornamento del canale. Non facevo un video del genere dal lontano 2021, forse 2020, fine 2020, in cui vi chiedevo come la qualità video andasse, se vi piacesse di più un 1080p a 60 frame al secondo o un 4K a 24 frame al secondo. Quindi è un video molto nostalgico. Perché sono qui per farvi un aggiornamento? Allora, diciamo che negli ultimi giorni sono cambiate un pochettino di cose nella mia vita. Voi sapete che io ho la passione ovviamente per la videografia, per la fotografia e per tutto ciò che concerne comunque produzioni video e foto. E quindi ho avuto la possibilità di collaborare con un fotografo professionista per un servizio che abbiamo fatto qui nel mio paese e mi è stata fatta la proposta di lavorare al suo studio di produzione come videomaker, come aiuto fotografo, tutte queste cose qua. E sinceramente parlando non ci ho pensato su due volte e ho accettato la proposta. A parte tutte le possibilità che mi si possono aprire in questo momento, ci sono ovviamente delle dovute precisazioni da fare su YouTube. Prima di tutto la programmazione ovviamente cambierà. Come avrete notato nelle ultime settimane ho caricato minimo un video ogni 7 giorni, ogni 10 giorni. Questo perché ultimamente, se devo essere sincero, mi sentivo un pochettino costretto. Per costretto intendo costretto nel mio spazio qui e a livello creativo. Quindi non è che al mattino mi svegliassi super mega felice per dire, ah che bello, oggi devo registrare un video. Era più, ah, devo registrare un video. Mamma mia, quando lo faccio? Questo perché provare hardware, provare comunque, sapete, le cose che mi mandano in prova è qualcosa che richiede molto tempo. È qualcosa che mi ruba un bel po' della giornata e soprattutto mi ruba spazio. Voi, come sapete benissimo, non ho un mio studio. Io registro tutti i miei video dalla mia camera. Questa qui praticamente è la mia camera da letto. Lì c'è sempre il letto. Quindi mi rendo conto che per fare un determinato tipo di produzione servano determinate cose. Tra cui, prima di tutto, lo spazio. Quindi la programmazione cambierà. Il canale diventerà molto più parlato, diciamo. Ci saranno più che altro delle chiacchierate tech per quanto riguarda le news che ci sono sul mercato, per quanto riguarda argomenti caldi del momento, sempre ovviamente in base agli impegni del mio lavoro primario. Perché se fino ad ora YouTube è stata la mia occupazione primaria perché non avevo necessità di trovare magari qualcosina per arrotondare, ebbene sì, YouTube ritornerà praticamente ad essere quello che è sempre stato per molti, e cioè un hobby per arrotondare. Il mio lavoro primario adesso è un altro praticamente, quello di creare contenuti per questo studio di produzione. Ciò significa anche che troverete a breve il canale YouTube di questo studio di produzione su internet perché abbiamo intenzione di parlare, appunto, di fotografia, videografia dal lato tecnico, qualcosa di estremamente figo, e soprattutto dal punto di vista della strumentazione, ad esempio quello lì che vedete adesso qui, è un Sony 90 mm 2.8 con macro, col quale si possono fare anche foto e video di hardware, cosa che io ho intenzione di utilizzare per il canale, ovviamente, quindi ne vedrete veramente delle belle. Per quanto riguarda il lato streaming e live su Twitch e YouTube, le live ci saranno sempre su Twitch, su YouTube mi sono reso conto che purtroppo ci sono enormi problemi per quanto riguarda la regolamentazione del copyright delle canzoni, quindi è più uno sbattimento fare live su YouTube, mi dispiace, ma purtroppo io non mi posso vedere una live demonetizzata perché un pezzo che è royalty free YouTube lo intende come un altro e quindi a un certo punto dice, eh guarda potresti prendere uno strike di copyright, non me lo posso assolutamente permettere, quindi le live ci saranno, ritorneranno su Twitch e che altro? Nulla, fondamentalmente questo. Non vi preoccupate, non sparisco, io rimango sempre qui perché se ho accettato questo lavoro è perché io adoro fare video, adoro comunque mettermi sui social, adoro esporre la mia opinione riguardo a alcuni argomenti, quindi non vi preoccupate, non vi libererete così facilmente di me, almeno per il momento. Quindi dovrete ancora sopportarmi per un bel po' di tempo. Come ho detto, i video saranno un pochettino diversi da quelli che avete visto fino ad ora, ma saranno sempre comunque inerenti all'ambito tecnologia, all'ambito informatica, all'ambito computer, perché fondamentalmente, voi lo sapete, è la mia passione, quindi parleremo magari anche con una produzione video migliore perché potrei fare dei video anche in studio lì, ma sono cose che poi effettivamente andremo a vedere assieme. Detto ciò, grazie mille per l'attenzione, datemi il tempo di organizzarmi nei giorni successivi così da non farvi mancare del contenuto interessante per i prossimi giorni, appunto. Grazie mille e ci vediamo alla prossima, sempre qui sul punto di G, sempre qui con il vostro G. Ciao, ciao, belli! È lì fuori la fotocamera, non riesco a farlo, ma lo faccio lo stesso. Ciao!